Visita a San Salvo per il ministro del turismo Massimo Garavaglia. Quest'ultimo è stato ricevuto nella sala consigliare del comune da Tiziana Magnacca e dal presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio. Prima dell'incontro si è espresso sui numeri della stagione turistica condizionati dalla pandemia. Era una stagione complicata, si sapeva, però siamo tutti bianchi e dobbiamo rimanere tutti bianchi. In Spagna c'è addirittura il coprifuoco, adesso che è zona rossa, quindi andiamo avanti serenamente. I numeri sono qua da vedere, il mare è molto bene, praticamente tutto esaurito, anche montagna molto bene e certo continuano a soffrire le città d'arte perché mancano gli stranieri, però ai noi finché la situazione Covid è questa in tutto il mondo è complicato. Successivamente il ministro ha incontrato gli operatori turistici e gli albergatori per discutere di turismo, prospettive per il futuro del territorio nel post-Covid e ai quali ha ribadito che Non bisogna abbassare la guardia, però con un po' di organizzazione riusciamo a fare tutto. Lavorare tutti insieme, in squadra, non è facile ma ce la dobbiamo fare. Quello che conta a noi è far fatturare gli operatori. Infine nel porto turistico Le Marinelle ha presenziato la cerimonia di consegna della bandiera blu assegnata dalla FE Italia per la ventiquattresima volta alla spiaggia di San Salvo e a Balneatori e sull'importante vessillo si è espresso così. Sì, è il giusto riconoscimento perché dietro la bandiera blu non c'è solo il bel mare ma c'è anche i servizi e l'organizzazione dell'amministrazione.